oh ragazzi quelli di fanpeggia hanno una faccia tosta dopo averci fatto la predica sapete su cosa il mondo del basket è in lutto è morto samuel dilas forte dolore alla gamba destra che poi si è steso anche dalle altre parti del corpo per il 24enne non c'è stato nulla da fare ora mi domando e dico a loro non gli viene in mente no di farsi qualche domanda e dirsi ma non è che abbiamo sottovalutato qualcosa no è